Questa volta abbiamo esagerato, siamo arrivati ancora prima ai pistes di Formula E. È mercoledì mattina e come vedete ci sono i soliti pacchi della DHL con il contenuto prezioso della Formula E dentro, incluso le vetture. Ma questa volta è incluso anche tutto quello che occorre per montare i box. Come vedete qua siamo nel box della Nissan ed è completamente vuoto. Stanno mettendo a posto tutte le rispettive cose per poi montare tutto. Vedete che è completamente vuoto. Da qui a un giorno rimarrà come voi li vedete di solito durante le trasmissioni televisive. E così tutti gli altri box di tutti i team. Questo è il box della Mahindra di Gracie Rowland. Come vedete tutto completamente vuoto. E' pronto per essere montato. E così via tutti gli altri. Invece i primi a finire i compiti sono quelli, il box delle vetture ufficiali, infatti Official Cars Garage. E vedete tutte le Porsche dei medici che collaboreranno in questo Sao Paolo e Pri e qui le due Safety Car.